La posturologia è una specializzazione della medicina complementare che si occupa di studiare la postura e le eventuali patologie ad essa connesse. Il sistema posturale è visto come un insieme di fattori coinvolti del sistema nervoso centrale e periferico, come gli occhi, la bocca, i piedi, i muscoli, l'orecchio e le articolazioni. Un atteggiamento posturale scorretto può alterare la funzionalità corporea, perciò il compito del posturologo è indagare la relazione tra la postura e gli eventuali disturbi corporei. Il posturologo si avvale di un'analisi clinica e strumentale per individuare la causa dei sintomi descritti dal paziente. Dopo un'accurata diagnosi, il posturologo sarà in grado di individuare la terapia più idonea. Si acquisisce la competenza in posturologia, frequentando il Master in Materia, successivo a una delle lauree in professioni sanitarie o al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia. La postura corporea è il modo di stare in equilibrio del corpo umano, per questo la posturologia considera il funzionamento di vari recettori posturali, gli occhi, la bocca, le orecchie, i piedi. Disfunzioni posturali possono manifestarsi attraverso disturbi psicosomatici. Può essere utile rivolgersi ad un posturologo nei seguenti casi. periodo di forte stress emotivo, cefalee, cervicale, vertigini e instabilità, scoliosi, tensione muscolare. I sintomi conseguenza di una disfunzione posturale possono essere mal di schiena, mal di testa, dolori articolari, vertigini, stress, ansia, sbalzi d'umore, depressione e attacchi di panico. Stai cercando il posturologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.drbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di UMA Innovation www.socialdoctor.it Grazie.